Ancora guai per Don Alessandro Minutella, il sacerdote palermitano che aveva contestato pubblicamente il Papa e che aveva trovato un rifugio a Carini presso l'Associazione Piccola Nazareth dopo essere stato richiamato al silenzio dall'arcivescovo Corrado Lorefice che gli aveva impedito di dire messa allontanandolo dalla parrocchia di San Giovanni Bosco di Romagnolo. Parrocchie in cui accorrevano migliaia di fedeli per parlare con lui, il protagonista a suo dire di locuzioni interiori con la Madonna, San Giuseppe e addirittura Padre Pio. La nuova chiesa di Padre Minutella incontrata a San Nicolo a Carini infatti è abusiva e deve essere demolito e acquisita al patrimonio del comune. Il provvedimento è stato emesso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovi Monteleone. Il capo ripartizione ha inviato un'ordinanza lo scorso 23 giugno, trascorsi i 90 giorni previsti nell'ordinanza per eseguire la demolizione. I vigili urbani di Carini andranno ad eseguire un altro sopralluogo. Se l'immobile sarà ancora lì e non saranno stati ripristinati i luoghi, entrerà a fare parte del patrimonio comunale. A Don Alessandro Minutella, in qualità di ex proprietario, a Santo Di Gati, presidente del consiglio direttivo dell'associazione Piccola Nazareth, era stato notificato il provvedimento di demolizione e rimozione a proprie spese. Tra l'altro, in questi anni, l'associazione aveva chiesto un cambio di destinazione d'uso da civile a chiesa, variazione bocciata dall'amministrazione comunale. Nei giorni scorsi, dalla nuova comunità di padre Minutella, si era occupata anche un servizio della trasmissione televisiva Le Iene. Lo scontro con la chiesa è nato dalle posizioni di Minutella, che ha definito la chiesa stessa una multinazionale della menzogna, prostituta indegna. Addetta di Minutella, Papa Bergoglio sarebbe un adepto delle logge massoniche sataniste, piazzato a Roma per distruggere la chiesa. Dichiarazioni terribili e fortissime, eppure sono moltissime le persone a credere alle parole di Don Minutella, che è stato rintracciato dall'inviato delle Iene, che ha scoperto l'esistenza di una casa dove vivono un gruppo di ragazze, che sarebbero le suore minutelliane, ordinate proprio da Don Alessandro. Intervistato anche il padre di una delle ragazze, che ha raccontato con disperazione di non riuscire a parlare con la figlia da almeno tre anni, assorbita, com'è, interamente dal suo progetto di fede accanto a Don Minutella, il quale le avrebbe detto che la famiglia altro non sarebbe che una tentazione del demonio. La ragazza avrebbe tagliato definitivamente i rapporti dunque con amici e parenti.